Il giovedì di Coppe Europee regala alla Roma solo un pareggio. In Conference League all'Eister la squadra di Mourinho non va oltre l'1-1 che va stretto ai giallorossi che ora puntano tutto sul match di ritorno. Nell'altra semifinale il Feyenoord batte il Marsiglia che dopo 20 minuti del primo tempo è già sotto di due ma mette in pari le cose prima dell'intervallo. Il sigillo finale degli olandesi nella ripresa. In Europa League l'Ipsia vince 1-0 sui Rangers Glasgow ma è line-tracked Francoforte a centrare il colpaccio in casa del West Ham, ipotecando così la finale.